Uno dei più famosi disegni preparatori di scultura è senza dubbio la cariatide del 13-14, a matita blu di 54x44 cm, o una gauccia omonima, poi realizzata in pietra e spostava al MoMA, il Museo di Arte Moderna di New York. In entrambi i fogli, la testa della cariatide è in mezzo per sostenere una mensola in una ricerca di linee completamente curva e morbida, e guardando la scultura di Modino si può non ripensare a quella dello schiavo atlante di Michelangelo, una delle statue chiamate Pregioni, realizzate per il monumento funevole di Papa Giulio II e ora la Galleria dell'Accademia di Firenze. Le cariatide sono la quintessenza dell'anima di Modin, che considerava la figura umana